Dieci casi l'anno scorso e uno soltanto pochi giorni fa. Anche sull'Ario cresce la preoccupazione per cani e gatti avvelenati con la tecnica del boccone di cibo contaminato da sostanze tossiche. Episodi che si stanno verificando in tutta Italia e che pure in provincia di Como stanno diventando frequenti. Dieci come detto i casi accertati dall'Asla nel 2014 a Carate Urio, Uggiate Trevano, Cavallasca, Inverigo, Tremezzina, Pianello dell'Ario, Colverde, Grandate e Senna Comasco. Davanti a sospetti di avvelenamento, l'esca o la carcassa della bestiola devono essere consegnate necessariamente all'Asla di competenza. Fatte le dovute verifiche, in caso di esito positivo, il servizio veterinario invia la documentazione alla procura competente e al sindaco del paese. Purtroppo questi fatti ingiustificabili stanno diventando frequenti e spesso le esche vengono lasciate anche in zone abitate, con rischi per la sicurezza di tutti, ha spiegato Giulio Gridavilla, direttore del Dipartimento Veterinario dell'Asla di Como. Tra i veleni più utilizzati compaiono i topicidi o le sostanze usate contro le talpe, spiega l'esperto. Purtroppo non sempre si riesce a salvare gli animali. Penso che sono dei vigliacchi innanzitutto, poi specialmente qui in via Domenico Pino hanno avvelenato due o tre gatti. Io, vabbè, lei la tengo sempre a guinzaglio, non tocca cibo da nessuno, cioè non raccoglie. Se dovesse farlo chiaramente tiro il guinzaglio. Quando usciamo, soprattutto nei giardini pubblici, stiamo attenti. Penso che magari una soluzione potrebbe essere di mettere delle telecamere in questi luoghi pubblici e così monitorare. Devono essere puniti e così almeno serve come deterrente per gli altri, come simbolo in modo che la gente poi sa cosa va incontro e quali sono le conseguenze. Quindi i consigli dell'esperta, alcune semplici regole per poter salvare la vita al proprio amico a quattro zampe. Tenere il cane al guinzaglio se il cane non ritorna, non è gestibile, diciamo, in modo tale da monitorarlo. Insegnargli il lascia in modo tale che se dovesse prendere qualcosa dicendogli lascia si risolve la situazione e evitare le zone sgambatura cani, quindi proprio le aree perché sono un fulcro sia di escrementi, quindi per i parassiti non va bene, e anche per i buconi avvelenati.